E' salita in cattedra anche la parlamentare Simona Bonafè nel corso degli appuntamenti con l'educazione civica organizzati dall'associazione Tratevere d'Arno. Un appuntamento con gli studenti della cornice del castello Conti Guidi di Poppi per parlare di Europa. E' importante fare educazione civica in mezzo ai ragazzi, sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle istituzioni. Oggi parliamo di Europa, un'istituzione che si sente spesso molto lontana e che invece riguarda molto da vicino la vita dei cittadini. Le istituzioni europee sembrano complesse, in parte anche lo sono, però c'è un motto molto bello dell'Europa che è uniti nella diversità. Insomma io parto sempre da questa bellissima cosa che ci tiene insieme. Siamo insieme in questo bellissimo progetto ancora incompiuto, anche se siamo diversi, diversi fra nazioni e diversi fra di noi. E quindi insomma è bello poter raccontare la complessità dell'Europa a un pubblico di ragazzi parlando il loro linguaggio. E' quasi al termine il terzo anno di lezioni di educazione civica negli istituti superiori dell'Aretino in collaborazione con il provveditorato agli studi di Arezzo e già si può tracciare un bilancio più che positivo. Bilancio positivo, non distribuiremo gli utili come si fa normalmente con i bilanci delle aziende perché saranno tutti reinvestiti. E' una scherza però in realtà il principio è proprio questo, cioè utilizzare le esperienze di questi anni, degli incontri oramai più di cento, non ricordo ma sicuramente più di cento, con i ragazzi delle scuole medie superiori della nostra provincia e soprattutto fare tesoro di tutto quello che ci hanno raccontato, che ci hanno spiegato relatori, insegnanti, illustri, però utilizzato la parola amici. Ecco, nel caso di Simona, già parlamentare europea, attualmente deputato al nostro Parlamento, ma la parola più bella che è stata utilizzata è amica. Fare tesoro di quello che gli amici ci hanno raccontato.